... Sono particolarmente lieto di poter ospitare questa sera nel nostro teatro comunale a Teramo la signora Susanna Egri. Questo anzitutto perché la sua presenza qui, a conclusione di questa terza edizione della nostra stagione di danza, è quanto mai significativo. Questo in modo particolare perché a questa stagione di danza si è accompagnata quest'anno un'altra manifestazione molto importante, anch'essa dedicata alla danza, anch'essa dedicata alla danza italiana, che ha approfondito per la prima volta le figure pionieristiche che per la prima volta hanno introdotto discorsi alternativi a quello della danza di tradizione o comunque un discorso di tipo evolutivo che ha portato più o meno direttamente a quello che poi è avvenuto, o meglio che è esploso con una serie di fenomeni anche abbastanza vacui nell'ultimo ventennio del Novecento. E certamente tra le pioniere della nuova danza italiana la signora Susanna Egri è una delle figure più significative. Anzi direi per certi versi una figura unica perché la signora è stata capace nel tempo non solo di portare avanti un discorso appunto molto duraturo e quindi molto longevo perché la sua scuola ha praticamente ormai 60 anni di vita, ma al tempo stesso di garantire a questo tipo di discorso una continuità sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista artistico che è quanto mai rara nel nostro paese, specialmente per quel che riguarda il lavoro svolto da figure come la signora Egri che in ambito privato hanno iniziato un discorso di tipo alternativo, spesso dovendo misurarsi con difficoltà di vario genere, molte delle quali sono facilmente comprensibili nei media dopo guerra, difficoltà di tipo infrastrutturale, difficoltà di tipo economico, difficoltà di tipo anche carenze legislative, difficoltà di ogni tipo a iniziare un discorso nuovo. Quindi la prima domanda che vorrei rivolgere alla signora è se a suo avviso esiste una linea di continuità, come io credo, tra la prima fase della sua attività, quella contrassegnata appunto dalla sua scuola e dalla compagnia I Balletti di Susanna Egri, e la fase attuale che è stata affidata a uno dei suoi allievi più brillanti, un allievo diretto, il maestro Raffaele Bianco, con la compagnia che porta i nomi dei due condirettori che sono la signora e Raffaele Bianco, cioè con l'Egri Bianco Danza, che nasce nel 1999 ma non come una realtà completamente nuova, in realtà come una compagnia che in qualche modo è eredita e porta avanti il discorso precedente. Ecco, quindi io sarei curioso di sapere dalla signora se a suo avviso esistono questi elementi di continuità e se ne esistono anche di discontinuità, cioè se ci sono anche degli elementi di novità rispetto al passato. Ma io anzitutto devo dire che sono molto felice di aver individuato in Raffaele Bianco, che è stato da prima mio discepolo, poi ha fatto la sua carriera fuori nel mondo, è stato in varie compagnie europee come danzatore, che con lui sia stato possibile continuare il lavoro che avevo iniziato io con i balletti di Susanna Egri, che oggi sono la compagnia Egri Bianco Danza, che in effetti è la continuità, ma una continuità nel nuovo, perché non è che Raffaele Bianco ricalchi le mie orme, cioè da queste orme ha preso un suo volo, come è giusto che sia, cioè è andato avanti, perché ricordiamoci una cosa, la danza è l'arte del presente, non la si può conservare, era nuova e viva nel momento in cui si è manifestata, ma ha bisogno continuamente di rinnovarsi, col portare nuova linfa, con lo stare attenti a ciò che avviene nel mondo, a misurare proprio il polso dell'attualità e filtrarlo attraverso la consapevolezza e la sapienza della composizione. Con questo sì è un dato che rimane, cioè l'attenzione alla composizione coreografica, che poi nei contenuti e anche nella forma si rinnova continuamente e quindi per me è una bellissima cosa di trovare qui a Teramo questa realtà in cui veramente si è fatto uno sforzo per perpetuare ciò che è nato tanto tempo prima con Lidiana Merlo e che quindi non è un seme buttato al vento e che non ha fruttato, anzi è un qualche cosa che continua nel tempo e questo lo si deve certamente alla tenacia, alla passione di lei che ha voluto portare avanti questo discorso. È la prima volta che io vengo a Teramo e sono molto felice di trovare qui questa realtà e anche il fatto che c'è un pubblico attento a questa iniziativa. Questo è bellissimo. La ringrazio anche a nome degli altri organizzatori della manifestazione che sono in primis il maestro Maurizio Cocciolito, tutto il suo staff, la Società dei Concerti della Musica e del Teatro, Primo Citelli e le rivolgo ancora un'altra domanda. Qual è a suo modo di vedere l'attuale stato, l'attuale situazione della danza in Italia, specialmente della danza d'autore in Italia e quali a suo avviso possono essere gli scenari futuri? Devo dire che al momento c'è molta confusione, cioè c'è molto movimento, ci sono tante iniziative sorte da ogni parte, ma c'è anche una grande confusione, cioè manca una vera conoscenza di quest'arte e anche di come è nata e come si è evoluta e come può diventare quest'arte. Mancano anche gli esegetti perché a un certo punto il pubblico ha anche bisogno di essere in qualche modo guidato, aiutato, perché ci sono delle forme anche talmente nuove che non sono facili immediatamente da accogliere e quindi la presenza anche sui quotidiani di critici illuminati sarebbe molto utile per far sì che da questa confusione nascessero delle linee direttive di maggior spessore, cosa che oggi io non vedo. Sono assolutamente d'accordo ed è uno degli elementi più interessanti e anche direi più preoccupanti che sono venuti fuori dal convegno che si è svolto ad ottobre. Lo stesso professore Alberto Testa che ha tenuto una delle relazioni più significative proprio sulla scuola della signora Egri e che è stato peraltro allievo della signora ha sottolineato, ha rilevato questa mancanza di una vera e propria cultura della danza nel nostro paese. Esiste prevalentemente una pratica che è estremamente diffusa, che si è enormemente ingigantita, questa pletora di scuole, scuolette eccetera. Ma all'origine, a monte di questo fenomeno, manca quella che è il vero humus di questa come di qualunque altra forma di espressione culturale. Cioè appunto manca una cognizione di carattere storico, di carattere culturale, di che cosa effettivamente la danza è stata nel tempo e di che cosa possa essere oggi e per il futuro. Quindi io credo che l'esempio portato da figure come Susanna Egri sia estremamente importante in questo momento per il nostro paese, specialmente in un momento così difficile come questo. Quindi signora io le chiedo semplicemente un'ultima cosa, oltre a ringraziarla naturalmente per averci concesso questa intervista, se può accennarci qualcosa allo spettacolo che vedremo questa sera? Sì, è uno spettacolo che noi portiamo in giro, stiamo per portarlo anche appena avremo finito Teramo, partiamo per la Bosnia dove avremo due spettacoli a Sarajevo. Uno di questi è centrato proprio su questo Dance 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 che è lo spettacolo che facciamo questa sera e che è molto significativo perché mostra come la danza può manifestarsi con contenuti e con ideali molto diversi l'uno dall'altro. Infatti questi tre Dance 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 sono tre diversi modi di intendere la danza, la danza nella sua sacralità che riporta alle origini stesse della danza, la danza come fatto sociale con quello che mostra e quello che nasconde e infine Simply Dance, cioè la danza quella di oggi, quella di tutti, quella che anche fa vedere a volte in modo un po' perfino ironico o caricaturale i vari modi in cui la danza oggi può manifestarsi. Quindi direi che è uno spettacolo totale, se vogliamo, affidato alla bravura dei nostri ballerini che devo dire la nostra compagnia al momento, io ho avuto tante compagnie perché naturalmente cambiano i soggetti negli anni e questa compagnia che abbiamo mi rende molto felice perché sono tutti veramente appassionati, convinti di quello che fanno e questo è molto importante. Non sono solo degli esecutori, sono loro stessi apostoli di questo credo che noi cerchiamo di portare avanti e di far conoscere. Questo io lo trovo molto significativo, molto importante perché finalmente è ciò che arriva al pubblico e anche, ecco, vorrei ancora dire questo, che in tutta questa confusione a cui abbiamo accennato prima nasce anche dal fatto che si confonde la scuola con il teatro. La scuola è una cosa e il teatro è un'altra, cioè preparare persone per il teatro richiede tutto un altro approccio da quello che è la funzione di una scuola che è ancora indifferenziata, non è detto che tutti coloro che studiano danza mirino al teatro, anzi direi che è un'elite particolare che può poi essere indirizzata al teatro, ma richiede altri principi, un altro porsi di fronte al fenomeno danza e molti questo lo confondano, prendono per teatro il saggio finale della scuola per dire che è tutta un'altra cosa, cioè insomma il professionismo di danza è una cosa ben precisa ed è di pochi, sono veramente, c'è una selezione, diventa un'elite quella che mette al servizio del teatro la propria capacità, gli anni e anni di studio, i corpi che sono diventati opere d'arte in un certo senso e che sono quindi in condizione di trasmettere agli spettatori quello che è il pensiero del coreografo. La ringrazio molto signora. La ringrazio molto signora. La ringrazio molto signora.